Partite! Olimpiadei, Blaugrana poco prima dell'ingresso di Tura e in vantaggio Bob Rock davanti a Crossout, Pass Sheriff e Tingui Ririca. I cavalli entrano in dirittura con Bob Rock in vantaggio lungo la corda attaccata all'esterno da Crossout. Allo steccato opposto, Pass Sheriff, seguono Ollidor, Tingui Ririca, Bridge Artemide in vantaggio Crossout attaccata all'esterno da Ollidor. Allo steccato opposto, Pass Sheriff segue Tingui Ririca in vantaggio, Pass Sheriff attaccata all'interno da Ollidor. All'interno Ollidor, all'esterno, Pass Sheriff segue Bridge Artemide. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.